Con l'approvazione di 16 articoli su 18 totali è proseguito nell'aula consigliare l'esame del disegno di legge per la variazione di bilancio 2022-2024. Sono 422 gli emendamenti depositati dall'opposizione concentrati soprattutto sugli ultimi articoli. Come ha spiegato in aula l'assessore Andrea Tronzano si tratta di una variazione di 44 milioni sui circa 19 miliardi totali del bilancio piemontese che soddisfa alcune esigenze che nel bilancio preventivo non avevano potuto trovare soluzioni a seguito di carenze di risorse. Mettiamo soldi sulle borse di studio, vediamo soldi sui voucher scuola certamente mettiamo soldi anche sulla questione degli infermieri all'interno della sanità per prorogare i loro contratti. Tra le manovre che il documento prevede ci sono 200 mila euro per le associazioni fondiarie 3,2 milioni di euro per coprire interamente le borse di studio 2 milioni per l'assegno di studio per trasporti e libri 1 milione per le scuole paritarie 7,3 per l'integrazione delle risorse necessarie a finanziare i nuovi contratti in sanità con la stabilizzazione dei lavoratori assunti a tempo determinato per l'emergenza Covid. Tutti i contratti della sanità stabiliti naturalmente da norme statali in Piemonte sono stati stabilizzati dai sanitari con anche risorse importantissime regionali. 1 milione poi va al Fondo regionale disabilità e 3 milioni per un aiuto alle piccole e medie imprese rispetto al caro energia pur essendo una questione che può essere affrontata soltanto a livello nazionale ed europeo. Molte critiche da parte delle opposizioni sono arrivate al finanziamento di 2,4 milioni a favore dell'organizzazione del rally di Alba. Viene portato in Piemonte un evento che dà una grandissima visibilità e quindi farà conoscere il Piemonte in tutto il mondo insieme ad altri eventi che abbiamo portato e continueremo a portare. È una variazione di bilancio che ha una dotazione di 44 milioni di euro quindi tante risorse e che non risolve nessuno dei problemi di oggi dei cittadini piemontesi. Approvato a maggioranza l'emendamento 435 all'articolo 15 Septies a prima firma di Stefano all'Asia per il riutilizzo dei risparmi del Consiglio regionale. La somma complessiva è pari a 9,9 milioni. Il testo prevede di destinarne 3,2 in un capitolo fondi e 6,7 in una serie di missioni e programmi con la finalità di sostenere progetti di investimento e programmi di intervento in corso di attuazione. Al momento della votazione dell'emendamento l'opposizione è uscita dall'Aula criticando la scelta di destinare i 6,7 milioni di risparmi del Consiglio senza un preventivo passaggio in commissione o in ufficio di presidenza e obiettando che sarebbe stato più opportuno utilizzare i fondi per combattere l'attuale drammatico caro bollette. Tiene conto soltanto delle esigenze della giunta di centrodestra a volte a favorire determinate lobby e determinate categorie e non delle esigenze dei cittadini piemontesi che si trovano a far fronte al caro bollette, agli aumenti dovuti all'inflazione e ovviamente a tutte le criticità che riguardano la vita di tutti i giorni. Il dibattito si è esso fermato a lungo anche sull'emendamento 434 presentato dalla giunta per la progettazione dei nuovi ospedali. In questo caso l'opposizione ha criticato l'opportunità di stanziare 30 milioni per i progetti di nuove strutture ospedaliere senza specificare quali. L'assessore Tronzano ha dato disponibilità a portare lunedì prossimo in quarta commissione l'emendamento perché sia approfondito in tutti i suoi aspetti. L'esame del DDL proseguirà la prossima settimana.